buongiorno a tutti i lettori di riv mag qui sulla spiaggia del wind festival 2016 a diano marina con noi gg romano per presentare la collezione delle tavole rrd 2017 ciao ezio ciao a tutti i lettori di riv mag allora siamo qui a diano e la prima tavola che partirò a presentarvi è il nuovo hardcore wave è una tavola diciamo ormai da anni il nome è conosciuto non ha bisogno di grandi presentazioni e la tavola punto di riferimento per il wave riding nella gamma rd mentre il caldo è una tavola wave europeo l'arco wave è disegnata e sviluppata da andrea rosati quindi un maniaco del wave riding ed è la tavola assolutamente di riferimento per chi vuole surfare onde grosse anche onde piccole ma è molto maniacale nel nella sua surfata molto preciso la caratteristica principale a differenza dell'anno scorso il setup delle pin che viene fornita l'anno scorso negli anni nei due anni passati è stato fornito con il setup quad dopo tanti test dopo quindi anni in cui è stata approvata in tutti i modi siamo resi conto che il setup thruster aiutava soprattutto nelle condizioni un po più europee quindi abbiamo reso la tavola più accessibile a un pubblico medio e quindi la tavola viene esce di casa comunque sia con 4 con 5 scasse e un set thruster ma within company due tappa scasse poi per l'amante del wave riding che preferisce usarla quad o a una necessità particolare c'è comunque sia la possibilità di tappare le scasse non vengono usate e continuare a usare la tavola e nelle solite misure 68 78 88 e 98 unica costruzione full car carbon e non c'è molto altro da dire la tavola che usa alex mussolini coppa del mondo quindi guardate un suo video e vi rendete consotto come può andare la tavola puoi metterla verticale così si vede meglio per pubblico questa è la tavola lo scoop line è molto dritto una tavola veloce è la mia tavola preferita quindi riesco a usarla anche in condizioni europee quindi la tavola va alla grande grazie passiamo alle altre allora altra novità qui al win festival è già qualche mese che è uscito però insomma continuiamo a presentarlo perché è il freestyle wave tavola diciamo principale per la rd è sempre stato un caldo della rd il freestyle wave sin dai primi anni quest'anno è stato cambiato è è stato tagliato il nose quindi un cut out nose che è un po la caratteristica di tutte le nuove tavole rd da quest'anno nei prossimi anni ridistribuito il volume un po più a prua con un tail un po più piccolo un po più 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 tirato questo per permettere una migliore andatura sia in planata quindi confortevole nel chop che alla fine è una condizione con cui chi va col freestyle wave utilizza sia anche al galleggio se chi prende tavole piccole riesce comunque sia a galleggiare bene avere una buona distribuzione del volume tavola lo scoop line lo scoop rocker è rimasto pressoché invariato sempre molto dritto quindi la tavola plana presto grande novità setup thruster viene fornita thruster quindi si consiglia di usare thruster quando si esce magari in condizioni un po più cioppate o con un po più d'onda addirittura nelle misure piccole ad esempio l'84 il 90 può essere usato tranquillamente anche come tavola da wave europea va alla grande l'ho provata anche in condizioni wave e oppure se si vuole uscire un po più free ride sulle misure come il 104 si può comunque sia tappare le due scasse e andare single fin come si andava ai vecchi tempi e la tavola va alla grande non è stata migliorata nella velocità e soprattutto nel fra le onde esposizione verticale anche di questa tavola questa è la tavola come vedete è qui compatta il volume ben distribuito e anche una doppia posizione delle streppe quindi si può scegliere se mettere più interni per una conduzione più wave oppure con mare scioppato per essere più in comodità per stare più comodi o una posizione un po più esterna se si usano ad esempio con 104 vele un po più grandi si mettono le streppe più esterne con l'acqua piatto e soprattutto consiglio di mettere streppe esterne con con il setup single fin e la tavola va cammina veloce e può essere usata quasi come una tavola freeride un po più sportiva versatile benissimo per concludere mi sono dimenticato di dire che viene fornita in due costruzioni che sono la costruzione wood e la costruzione limited che in carbon poi passiamo al file scusate questo è il file storm il nuovo file storm che è stato ridisegnato dopo diversi anni in quanto file storm è una tavola che è stata sviluppata a lungo credo 34 anni e non si è mai riusciti a fare meglio di quello che c'era prima io personalmente ho provato molti file storm molti prototipi soprattutto nelle misure grandi e quello che c'era prima andava già alla grande finalmente siamo riusciti a trovare un buon compromesso sul nuovo file storm ci siamo concentrati soprattutto sulla velocità che alla fine è l'elemento che l'acquirente il cliente che compra un file storm predilige comunque sia perché è una tavola free race che può essere paragonata a un x fire ma molto più semplice molto più tranquilla e usabile anche con vele senza camber e molto meno fisica quindi la velocità a dispetto del vecchio file storm è stata incrementata del 30 per cento la tavola è stata ridisegnata lo scoop rocker è quello dell'x fire v7 quindi della tavola campione del mondo ovviamente con dei piccoli accorgiamenti sui bordi che sono un po più fini sulla poppa in quanto presenta dei cut out e un toro tail come l'x fire soltanto in misura molto ridotta questa per aiutare sia in strambata sia in andatura per rendere la tavola poco fisica la poppa è stata stretta per accelerare ancora di più per andare più veloce sempre però mantenendo una larghezza massima abbastanza ampia per permettere un entrata in planata veloce e diciamo veloce viene fatta nelle misure 102 112 123 sia wood che carbon quindi full carbon e anche questa presenta doppio stop per le strap quindi se si usa in più in versione freeride con mare un po più cioppato condizione un po più difficile mettiamo le strepa all'interno se invece si usa in versione più slalom più aggressiva possiamo mettere le streppe più esterne ed è la tavola che consiglio a tutti quelli che vogliono fare slalom vogliono confrontarsi con gli amici però senza fare fatica quindi rimanendo avendo come main focus il divertimento senza però perdere in velocità e nelle strambate e questo è tutto per quanto riguarda le le tavole che abbiamo qui al win festival mostriamo anche questo in verticale questa tavola come potete vedere lo scoop rocker è lo stesso del per l'appunto del del x fire tavola campione del mondo quindi non ci sono grandi cose da dire e questo è il nuovo firestorm perfetto per ora con le tavole da windsor drd è tutto continuate a seguire a seguirci su rimac ea presto dal win festival ciao ciao